Buonasera A quanto pare anche questo giochino va in finestra E questa è cosa buona e giusta Dovrebbero farlo tutti i giochi Prendete esempio Di conseguenza, visto che va in finestra Lo provo dal vivo Sarebbe bello giocare gli alieni E distruggere l'umanità Vediamo Non sappiamo Chi sono e da dove arrivano Tutto quello che sappiamo E che dobbiamo distruggerli a ogni costo Magari ci vorremmo invita a cena Che ne sai Guarda che luna Vabbè proviamo questo Play Oggi dice play Non mi frega niente Play e play Così parte senza dirmi niente Tipo un 3, 2, 1 Granata 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 Bello sto gioco Lo devi solo schiacciare Quanto si ti scusa E Sì 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 Sicuramente più avanti Per segno E basta Sì 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 Sangue 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 Devo cominciare a usare la rotella per scorrere E 4 stelle ci mancherebbe eh Chissà che cacchio intende Continua Fly Buona Andiamo di rotella No gli alieni ho paura ho paura mamma Non posso guardare Non posso guardare Non posso perché non posso guardare enalta Granata 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 ma da è difficilissimo è difficilissimo è difficilissimo che cosa posso fare ah non è il il è Grazie a tutti. Solo 3 star? Perché? Perché mai? Più che schiacciare qua che devo fare? Devo aspettare l'altra unità e evidentemente funziona così. Quando apro l'altra unità sarò più figo. Allora, vai. Dobbiamo provare ancora? Mi siete annoiati? E... andiamo. Sempre lento però, eh? Due cose devo fare. Schiacciare qua. Addio. No, no, disastro. Prenderò solo due stelle. No, no. No, no, no. Resto uno. Uomo a terra. Uomo a terra. Porca puttana Johnny. Johnny non si le sora. No, 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 no. No, 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 no. Siamo cercando e vedendo Ma vabbè 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 Oh venne vabbè! Ok. Dai 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 ci conosci a parametri a tutti. oh ah 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 oh ah 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 tre stelle vabbè pazienza tipo ho fatto quattro achievement non ho fatto niente quattro achievement achievement pignoli siete pignoli sapete che vi dico questo gioco è troppo divertente troppo interattivo sono troppo sarcastico basta forse guardando i prossimi 20 livelli potrebbe sorprendermi ma per adesso basta che poi ho detto la stessa cosa per 10 milioni e l'ho finito in realtà quindi vi saluto figli maschi e alla prossima puntata ciao e non ho fatto lecce che che